È il 2 marzo la data scelta nella quale il sindaco di Palermo, Luca Orlando, presenterà la nuova giunta. Intanto si è dimesso l'assessore comunale alla cultura, Andrea Cusmano, una scelta dettata non da motivi politici ma di altra natura, sottolinano da Palazzo delle Aquile. Il 1 marzo il sindaco intanto incontrerà i capigruppo della maggioranza e il giorno successivo renderà pubblica la nuova giunta. Comincia anche il totonomi, sembrerebbe essere certo l'ingresso di Fabio Giambrone come nuovo vice sindaco. Si fa anche il nome di Giusto Catania, in quota sinistra comune, già assessore alla mobilità nella scorsa sindacatura e Dario Chinnici del PD. Resterebbe fuori Yolanda Riolo, assessore alla mobilità in carica, riconfermati invece Giuseppe Mattina e Giovanna Marano, attualmente assessore alle politiche sociali e alla scuola.